Lei insieme al Presidente della provincia si è fatto carico di inviare a Roma una lettera al Ministero per chiedere che cosa rispetto all'Orso? Noi abbiamo chiesto sostanzialmente che possa essere in qualche modo radiocollarato perché questo consentirebbe di avere una contezza maggiore di quelli che sono gli spostamenti, anche per fugare alcune voci che dicono essere più di uno all'Orso che in questo momento sta in qualche modo muovendosi sul parco e sui confini del parco. Oggi in questi giorni è uscito dai confini del parco. La possibilità di radiocollararlo ovviamente consentirebbe di fugare queste voci anche perché gli orsi sono animali che si spostano molto velocemente facendo anche tanti chilometri, quindi magari una predazione fatta oggi in un'area del parco e domani fatta in un'altra parte del parco o un'apparizione ovviamente fanno pensare che l'esemplare possa essere più di uno. Da quello che abbiamo noi oggi come dati non è assolutamente così e anche per quello che ci è stato riferito dai nostri tecnici e dal reparto Carabinieri Parco l'Orso oggi è al 99.9% uno solo. C'è stata una risposta da parte del Ministero che è arrivata nella giornata di ieri in cui chiedono sostanzialmente che vada compilato un format con delle specifiche ben previste. Noi abbiamo fatto una prima lettera per capire quale fosse la procedura, il fatto che il Ministero ci abbia risposto dopo tre giorni in qualche modo almeno ci consente di provare a procedere con quelle che sono le regole dettate dal Ministero stesso perché anche per posizionare un radiocollare su un orso occorre comunque avere un'autorizzazione che consenta di poterlo fare, non è un atto, è un fatto che può fare il parco in questo caso o il Presidente della provincia diciamo ancora un parere positivo del Mase e quindi del Ministero dell'Ambiente ma anche da parte di Ispera.